Viste nel momento dei primi bilanci dopo questa prima fase della preparazione, il lavoro è stato intenso? Sì, aspettiamo sabato, poi la quarta settimana, sabato, ecco, dopo sabato faremo un bilancio. Adesso bisogna cercare la velocità, la fluidità? Bisogna giocare, bisogna giocare le più partite possibili per trovare l'audizione ideale per la prima diampionata. Diciamo che l'Arezzo vero è quello che ho visto i primi 20 minuti con il Trestian? Ma, speriamo di quello che risponde più all'indiani pensieri. Sì, sì, però l'abbiamo fatto per troppo tempo, non bastanoci, non bastano. Oggi ha scelto di giocare sul sicuro, sull'usato sicuro, usiamo a dire, visto che era una squadra che conosceva anche gli avversari. No, 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 oggi hanno fatto 60 minuti i vesti, sabato fanno 60 minuti gli altri. Abbiamo fatto due squadre miste e stava un caso se è venuta o sì. Iniziamo con l'allenatore del Trestian, Davide Ciampelli. Intanto, una buona prestazione che premia anche la riammissione in Seredi. Sì, non ci dobbiamo dimenticare che fino a Giovedi scorso eravamo in eccellenza, anche se tutti speravamo nell'esito che poi c'è stato. Chiaramente la riammissione in Seredi ha dato entusiasmo, slancio, ma non ci deve far perdere la nostra voglia di riabilitare una stagione difficile come quella scorsa. E voglia con la quale siamo partiti.